E ragazzi, guardate che qui c'è un mega prelisi, Pino Bosco, Gianluigi Papa, vedete com'è che c'è Grediano? E allora, Iver, dimmi tu quanto sei pronto, Iver, fammi un giro solo da queste parti, amor. E intanto salutiamo il grande e l'unico Carlos a Catara. Pino, basta, hai quattro bicchieri per una mano, è possibile. E allora ragazzi, eccoci! E allora, è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.